Torniamo a parlare delle opere di compensazione. Come sapete c'è stato un vertice a Roma tra l'ANAS, l'amministrazione comunale e una delegazione di consiglieri comunali. In pratica verranno eseguite delle opere non quelle previste dall'accordo 2014. Accordo portato avanti dall'amministrazione Campisi. Abbiamo sentito l'ex assessore Andrea Milazzo che dice quell'accordo era valido a tutti gli effetti anche se non rientrava nella delibera Cipe. Poi l'assessore Tuminelli che dice no, la legge dice che deve essere una delibera Cipe e quindi l'accordo non era valido. Adesso interviene il consigliere comunale Antonio Favata che dice io nel 2014 c'ero, le cose non stanno così. Sì, io c'ero. Fu una riunione molto pepata, erano più le grida che i ragionamenti che noi portammo avanti. Alla fine l'ANAS ci ha detto e abbiamo firmato un protocollo d'intesa che è tuttora valido, altrimenti cosa significherebbe mettere nero su bianco? Non avrebbe alcun senso. L'ANAS accettò quel protocollo che noi portammo avanti e siamo fermi a quel momento. Quello che ha detto l'ex assessore Milazzo in pratica è sbagliato che sono andati a parlare con i vertici dell'ANAS perché comunque l'ANAS è quella che deve pagare e quindi effettivamente si tira il suo, mentre l'incontro doveva svolgersi al Ministero. È ovvio, è ovvio, anche perché noi riteniamo, soprattutto in questo momento, che ulteriori incontri e altro stanno facendo soltanto perdere ancora del tempo. La città di Caltanissetta oggi deve essere risarcita. I problemi della viabilità, i problemi per andare a prendere l'autostrada, la bretella bloccata, insomma sono problemi che noi non abbiamo creato ma che stiamo subendo. Oltre alle opere di compensazione che sono quelle che il Consiglio Comunale all'epoca ha deciso e volle, non ce ne sono altri. Quali sono? Ricordiamolo alla città. Sono diverse, sono tre, sono dei raccordi per raggiungere diversi punti, ecco lo mettiamo così perché abbiamo detto tante volte e ci corriamo il rischio di annoiarci tra noi stessi. Svingoli che servono esclusivamente alla nostra città. Ovviamente si ritorna a parlare di contrada stretto, lì non c'entra niente, non bisogna immaginare di poter spendere questi soldi per contrada stretto perché là ci sono le finanziamenti della regione, bandie europee, ci sono altre situazioni che è meglio non toccare. Abbiamo dei soldi per fare qualche cosa per la nostra città, per la viabilità della nostra città. Quindi a suo avviso perché l'amministrazione Ruvolo non fa rispettare questo accordo? Ma io se fossi sindaco sinceramente farei tutt'altro, io metterei in mano l'ANAS e addirittura userei l'essere sindaco cioè toglierei le autorizzazioni o voi ci si ferma tutti e vedete quello che dovete fare invece che andare a Roma a trattare per carità ci può stare politica, io non dico di no, ognuno tira acqua al proprio mulino ma bloccare, togliere l'autorizzazione, voglio vedere come si comporteranno questi ai nostri confronti se non assentiranno a quello che il Consiglio Comunale ha già deciso.